Amici di Armietiro, il viaggio nel quale vogliamo portarvi in questa occasione è un viaggio molto particolare nell'universo di quelle che sono i cosiddetti proiettili slug per il fucile a canna liscia. Con il termine slug, scritto slug per chi magari abbia poca dimestichezza con l'idioma anglosassone, si identificano genericamente i proiettili singoli diciamo per il fucile a canna liscia, principalmente calibro 12 ma non soltanto, esistono anche in altri calibri come può essere il calibro 16, il calibro 20, il 28 e il 36 410. Diciamo che il calibro per fucile a canna liscia che ha la maggior diffusione di tipologie di proiettili di caricamenti slug è ovviamente il calibro 12. I caricamenti slug si utilizzano diciamo conferendo al fucile a canna liscia una grande versatilità, quindi il fucile a canna liscia nascerebbe teoricamente per l'utilizzo di munizioni a pallini, principalmente per sparare ai volatili diciamo, con il caricamento a palla singola slug diventa idoneo alla caccia al cinghiale o per esempio in altri paesi può diventare idoneo alla caccia al cervo o ad altri ungulati. Chiaramente molto spesso si trovano in commercio questi proiettili slug e si dà anche per scontato tutto sommato quale sia il loro funzionamento. Può qualcuno magari avere anche la curiosità di capire come fanno a funzionare concretamente i proiettili slug in un fucile a canna liscia che in quanto a canna liscia non ha le rigature all'interno della canna per stabilizzare questi proiettili e quindi vorremmo cercare di colmare questa eventuale lacuna, in capo magari a chi ce l'abbia, con termini anche facili da comprendere e senza scendere in tecnicismi che potrebbero essere anche piuttosto noiosi oltre che magari non semplicissimi per tutti. Partiamo da uno dei proiettili più classici in assoluto che è il Brenneck. Brenneck, c'è anche un'azienda che ha questo nome, dal nome del progettista inventore tedesco, è un proiettile che ha ormai allegramente superato il secolo di vita e nonostante questo è ancora attualissimo. Si tratta di un proiettile che evidenzia diciamo nella sua struttura quella che è la caratteristica che fa funzionare un proiettile singolo in una canna liscia, cioè consente al proiettile di stabilizzarsi anche se non c'è una rigatura nella canna che gli consenta di girare intorno al proprio asse longitudinale stabilizzandosi in volo. Qual è il trucco, tra virgolette, ammesso che di trucco si possa trattare? Il proiettile Brenneck è un proiettile praticamente cilindrico con una calotta semisferica tutta fatta nella fusione del piombo del proiettile. All'interno però il proiettile è praticamente cavo con soltanto un picciolo centrale sul quale si innesta una vite, una comune vite da ferramenta che serve a tenere la borra in feltro. Che cosa succede? Succede quindi che questo proiettile riesce a stabilizzarsi in volo perché la sua parte apicale, quindi la sua parte davanti, risulta più pesante rispetto al resto del proiettile, quindi il baricentro risulta avanzato. Diciamo che questo fenomeno, cioè del baricentro avanzato, c'è anche per il solo proiettile in piombo. Chiaramente l'aggiunta dell'impennaggio, cioè della borra, che è più leggera rispetto al piombo, ovviamente molto più leggera rispetto al piombo, incrementa ulteriormente lo spostamento in avanti del baricentro rispetto all'asse longitudinale. Che cosa succede? Succede che c'è un principio fisico tale per cui nel momento in cui c'è un corpo che si muove nell'aria e ha un baricentro avanzato, il suo asse longitudinale tende naturalmente a disporsi tangente all'arco di traiettoria. Quindi in pratica il proiettile si autostabilizza proprio per la sua caratteristica di avere il baricentro avanzato rispetto alla totalità della sua lunghezza. Sono ovviamente stati in molti, soprattutto in anni più vicini a noi, a utilizzare il medesimo principio. Uno dei prodotti che ha acquisito maggior diffusione accanto al tedesco Brenneck è l'italiana borra proiettile Gualandi, che sfrutta l'identico principio. Anche in questo caso c'è un proiettile cilindrico con una sommità conica in piombo, che nella parte posteriore è ampiamente scavato e che all'interno praticamente porta incastrata la borra in materiale polimerico che funge anche da elemento di tenuta per i gas di sparo. Questo proiettile vanta caratteristiche piuttosto spiccate di precisione, avendo esaltato diciamo la lunghezza dell'impennaggio, che quindi essendo ancora più lungo contribuisce ancora più efficacemente alla stabilizzazione. Quindi noi possiamo dire che il proiettile non si avvita nella canna perché la canna non ha rigature per poterla avvitare, ma riesce comunque a stabilizzarsi autonomamente in virtù di questo avanzamento del baricentro. Un'altra caratteristica molto importante che posseggono i proiettili SLUG o SLUG è la capacità di autoridursi nella strozzatura. Che cosa significa? Significa che la stragrande maggioranza dei fucili da caccia ad anima liscia ha la canna strozzata. Che cosa significa? Significa che c'è una costrizione rispetto al diametro della parte mediana o della parte iniziale della canna. Per far sì che le rosate di pallini siano più dense alla distanza, quindi sostanzialmente per riuscire a sparare efficacemente più lontano con i pallini. In alcuni casi, soprattutto oggi come oggi, le strozzature sono avvitate alla canna, quindi nel momento in cui uno vuole sparare a palla cosa fa? Svita lo strozzatore strozzato, mette uno strozzatore cilindrico che ha lo stesso diametro del resto della canna e spara la SLUG. Ma ci sono anche molti fucili che ancora oggi, soprattutto quelli di più vecchia costruzione, hanno la canna con lo strozzatore fisso, quindi la canna è stata creata con una strozzatura e non si può togliere. Questi proiettili sono stati concepiti proprio per riuscire a essere utilizzati in sicurezza anche con un elevato grado di strozzatura della canna, cosiddetta strozzatura piena o full. Che cosa significa? Significa che in realtà la parte massiccia del proiettile è più stretta. Ad avere il diametro corrispondente grosso modo all'anima della canna non è la parte massiccia del proiettile, ma sono una serie di nervature, nella maggior parte dei casi elicoidali, in questo caso ci sono due flange praticamente, che possono ridursi, trafilarsi efficacemente passando attraverso la strozzatura, senza che la parte massiccia del proiettile entri in contatto con la strozzatura e quindi possa provocare un aumento pericoloso delle pressioni. Possiamo vedere un altro esempio molto diffuso, soprattutto negli Stati Uniti, di questo tipo di concetto ed è il proiettile Foster, che è utilizzatissimo da tutti i principali produttori di munizioni slag negli Stati Uniti, proprio perché essendo un progetto americano, anche per regioni di campanilismo, diciamo così, viene utilizzato. In questo caso vediamo che il proiettile addirittura non ha borraggio, si sfrutta proprio il principio della massa del baricentro avanzato del proiettile con un'ampia cavità posteriore, quindi praticamente anche in questo caso il baricentro risulta avanzato e la parte posteriore del proiettile funge essa stessa da impennaggio. Come si può notare anche in questo caso ci sono una serie di scanalature elicoidali che servono sempre allo stesso scopo, quindi diciamo autoridurre il proiettile nell'eventualità in cui passi attraverso una strozzatura. C'è poi la distinzione, non tanto per quello che riguarda il tipo di proiettile, quanto per quanto riguarda il tipo di cartuccia, nel senso che ci sono munizioni slag caricate con bossolo 12-70, quindi con calibro 12 standard, e ci sono munizioni caricate con cartuccia 12 magnum o 12-76, in questo caso il bossolo è 76 mm e non 70. Qual è la differenza? Dipende. Alcuni produttori per esempio producono una versione magnum della cartuccia slag utilizzando lo stesso proiettile che utilizzano nella cartuccia normale. Questo che cosa significa? Significa che il proiettile è lo stesso, il peso è lo stesso, viene spinto a maggiore velocità. È questo che qualifica la sua componente magnum. In altre circostanze, qui abbiamo per esempio una Brennec opal magnum, la differenza non è tanto la velocità quanto il fatto che viene realizzata una slug, una slag, più pesante. Allora, se la Brennec normale ha un peso di circa 31-32 grammi, noi abbiamo addirittura, l'abbiamo scelto perché è un caso limite, la Brennec opal magnum che addirittura arriva a un peso di 53 grammi, spinto più o meno alla stessa velocità nella quale una cartuccia 12 normale riesce a spingere una Brennec normale. È chiaro che, essendo comunque l'energia cinetica il prodotto del quadrato della velocità per la massa, aumentando molto la massa aumenta comunque l'energia cinetica. Non possiamo far a meno di trattare l'universo slug parlando anche di quelli che sono i proiettili sottocalibrati. Questa è un'altra particolarità che è venuta fuori soprattutto negli ultimi, diciamo, 30 anni. In particolare, che cosa succede? In questo caso, la cartuccia è caricata con un proiettile che è più stretto rispetto a quello che dovrebbe essere il suo calibro nominale. Per recuperare la differenza di dimensioni ed evitare che il proiettile sbatacchi, diciamo, durante il suo tragitto dentro la canna, si utilizza o una borra, come in questo caso, oppure un cosiddetto sabot, che sono normalmente due valve, due gusci, oppure, come in questo caso, un ibrido tra una borra tradizionale per i pallini e il sabot. La differenza rispetto a una borra convenzionale è lo spessore dei petali, che nella maggior parte dei casi è molto più accentuato. Qual è il vantaggio di questo tipo di proiettile? Il vantaggio è che un proiettile sottocalibrato risulta molto più leggero rispetto a un proiettile del diametro canonico del calibro 12. Quindi, a parità di pressioni massime di esercizio, è possibile spingerlo a una velocità superiore, ottenendo quindi, per esempio, una superiore tensione di traiettoria, dovendo sparare magari a distanze limite, che per un calibro 12 normale, caricato con una munizione slag normale, è di circa 50-60 metri. Ci possono essere, anche in questo caso, diversi tipi di proiettile sottocalibrato. Alcuni proiettili sottocalibrati sono utilizzabili con il fucile a canna liscia normale, perché, come potete vedere, riproducono in piccolo quella che è la solita struttura del proiettile convenzionale slag, quindi un proiettile in piombo cilindrico con un baricentro avanzato capace di autostabilizzarsi in volo. Esiste un altro tipo però di proiettile, che è il proiettile sottocalibrato, che ha la possibilità invece di essere, cioè più che la possibilità, la necessità di essere sparato nelle canne cosiddette raggiate. Allora, in questo caso, per esempio, abbiamo un proiettile che è il Remington Copper Solid. Potete vedere che è praticamente un grosso proiettile per carabina, è un proiettile per carabina diventato più grande. Qui si pone un problema fondamentale. In questo caso il baricentro non è avanzato, come nel classico proiettile slag. È un baricentro, anzi, piuttosto arretrato. Quindi che cosa significa? Significa che in questo caso c'è la necessità di sviluppare un fucile a canna liscia, che non ha la canna liscia. Ha la canna con alcune rigature, oppure viene montato uno strozzatore che ha delle rigature elicoidali nell'ultimo tratto di canna, in modo da consentire al sabò di prendere le rigature e quindi di assumere quella stabilizzazione giroscopica che serve al proiettile per andare dritto in volo. Detto sempre molto terra a terra, come avevamo promesso. È possibile utilizzare un proiettile di questo tipo anche in un fucile a canna liscia? Sì, è possibile utilizzarlo, nel senso che la cartuccia viene sparata, il proiettile uscirà dalla canna. Il problema è che nella maggior parte dei casi impatterà sul bersaglio o sul cinghiale di traverso, oppure addirittura con la parte posteriore, anziché con la parte anteriore. Quindi che cosa succede? Se, come in questo caso, c'è una punta cava destinata a generare un'espansione, il proiettile non riuscirà a lavorare adeguatamente sulla preda e di conseguenza sarà pressoché inutile. Esistono dei proiettili che non sono sottocalibrati, sono a diametro normale e sono anch'essi sviluppati appositamente per le canne rigate o raggiate. Quindi qual è il consiglio? Il consiglio è sempre quello di verificare attentamente, sia su internet, sia anche leggendo con attenzione le indicazioni sulle confezioni, se il proiettile, o meglio la cartuccia che noi stiamo acquistando, sia idonea effettivamente al tipo di fucile che noi abbiamo. Quindi se sia utilizzabile con un fucile a canna liscia o se necessiti invece di avere una canna raggiata, così si definiscono le canne rigate nei fucili nati a canna liscia, o quantomeno di uno strozzatore rigato. Allo stesso modo, un'altra delle caratteristiche sulle quali magari in molti casi non si pone l'accento, è destinata al fatto che non tutti i proiettili slug sparano con il proprio fucile esattamente nello stesso punto. Che cosa significa? Significa che magari tutti questi proiettili sono in grado di fare una rosata piuttosto concentrata con il proprio fucile, ma ci possono essere delle piccole variazioni derivanti proprio al modo in cui il proiettile si stabilizza nella canna del nostro fucile, in funzione anche della velocità che raggiunge e di diversi altri fattori. Che cosa significa questo? Significa fare una rosata che può essere anche di 5, 6, 7, 8, 10 centimetri, più in alto, più in basso, a seconda delle velocità e del peso, ma anche spostata verso destra o verso sinistra. Sempre concentrata la rosata, però spostata. Quindi il consiglio qual è? Quando si decide di adibire un fucile a canna liscia al tiro a palla, quindi con munizioni slug, sarebbe opportuno dotarlo di una canna innanzitutto cilindrica, perché se è vero che le strozzature possono essere attraversate in sicurezza dal proiettile, la minor deformazione che si dà al proiettile determina una maggior costanza sul bersaglio, quindi sarebbe comunque preferibile sparare possibilmente con canne cilindriche. È anche opportuno che la nostra canna sia dotata di un mirino e di una tacca di mira, possibilmente regolabile, che possa quindi essere tarata specificamente sulla cartuccia che si andrà a impiegare, bilanciando attraverso la taratura della tacca quella che può essere lo scostamento di quello specifico tipo di munizione su quello specifico tipo di canna. Ovviamente la materia è molto vasta, abbiamo semplicemente cercato di dare un'infarinatura per cercare di far sì che il cacciatore o in generale anche il tiratore sportivo, il fruitore di munizioni a palla nel suo fucile, sia un fruitore possibilmente più consapevole.